Aspettando il crono programma della Regione, il Consiglio Comunale apparecchia la sua tabella di marcia per il nuovo ospedale di Muraglia. L'accordo di programma per la realizzazione dell'ospedale è stato infatti il tema centrale della seduta consigliare di lunedì. Un accordo di programma che arriva a 12 giorni di distanza dal Consiglio monotematico sulla sanità, tenutosi alla presenza del Presidente della Regione Acquaroli e che ieri ha visto l'assise approvare all'unanimità l'intesa con 25 voti favorevoli e 8 assenti. Tra le assenze, oltre a quella del Sindaco Ricci, indisposto per la positività al Covid-19, si sono sfilati dalla votazione alcuni consiglieri della Lega come Giovanni Dall'Asta, Francesco Totaro e Andrea Marchionni. L'accordo di programma definisce gli impegni di Comune di Pesaro, Regione Marche, Asur e azienda ospedaliera Marche Nord per realizzare il nuovo ospedale e ricollocare le strutture al fine di garantire la continuità dei servizi. Tra i compiti dell'amministrazione pesarese ci sarà quello di realizzare un parcheggio di 300 posti autocomplessivi che prevederà due stralci di lavoro, così come prevista la messa a disposizione della Residenza Protetta Casa Roverella, che è di proprietà comunale e in concessione al Consorzio Sociale Santa Colomba, per trasferire lì la RSA Tommasello. L'impegno della Regione Marche prevede la copertura di tutte le spese per la progettazione e realizzazione del nuovo ospedale di Muraglia, così come la risoluzione delle interferenze idrogeologiche.